Generazione Report di progetto In questa lezione si mostra come procedere per la generazione del report di progetto sia in formato cartaceo che elettronico. Una volta che il preventivo è completo, si può procedere con la stampa del progetto. Per accedere alla maschera Stampa è necessario utilizzare la barra multifunzione presente nella parte superiore della finestra principale del CAT. Fare clic sul pulsante CAT. Si accede al menu di CAT. Fare clic sul comando Stampa per aprire la maschera di generazione Report. Il comando Stampa è disponibile anche direttamente dal carrello attraverso il menu a comparsa attivabile con il tasto destro del mouse. Si accede alla maschera di stampa per la composizione del report. La maschera di stampa concentra tutte le opzioni utili per personalizzare il report di progetto. La composizione dell'offerta è così strutturata. Intestazione. Selezionare la casella di spunta Intestazione per includere nel report i dati utente e i dati cliente precedentemente inseriti nelle opzioni di CAT. Riepilogo offerta. In questa sezione è possibile selezionare il tipo di visualizzazione dell'importo totale e includere o no le note e le condizioni generali di fornitura. Elenco materiali. Così come per l'importo, anche l'elenco materiale può essere personalizzato includendo nell'offerta il prezzo di listino, la quota di assemblaggio, il prezzo unitario e totale. Per personalizzare ulteriormente il report di stampa, fare clic sul pulsante Opzioni. È possibile raggruppare l'elenco materiali per quadro o per famiglie prodotto e visualizzare i dettagli di accessoriamento. Referenze. Selezionare la casella di spunta Referenze per includere nella stampa del report la lista di referenze inserita nelle opzioni di CAT. Fare clic su OK per visualizzare l'anteprima del report di stampa. Per scorrere le pagine del report di stampa generato, fare clic sul pulsante Next Page. È inoltre possibile esportare il progetto in alcuni altri formati come RTF, PDF ed Excel. Bene, in questa lezione si è appreso come procedere alla generazione e alla personalizzazione di un report di progetto. Grazie per l'attenzione.